Borg McRoy, film. Borg McRoy è un film sportivo, biografico del 2017 diretto da Janos Metz, con Sverigdnason, Jalabeuf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Robert Ems, Jason Forbes, B.I. Lunga O. con Dieresi R.N. Granat. Tram. Bjorn Borg è un ragazzo molto particolare, poco più che ventenne è considerato il campione mondiale indiscusso del tennis. Il record di Borg è quello di aver vinto il torneo di Wimbledon per ben quattro volte consecutive. Questa volta però, il freddo ed impassibile, almeno all'apparenza, campione svedese, dovrà vedersela con un americano tutto pepe, il giovanissimo campione di tennis John McRoy. Recensione. Borg McRoy è un film sportivo del 2017. Il titolo già parla da solo su quella che è la sua trama, infatti in questa pellicola si parla della vita dei due campioni di tennis, Bjorn Borg e John McRoy. Il film tratta la rivalità dei due tennisti, due persone che all'apparenza hanno un carattere completamente diverso, ma che in realtà sono molto più simili di quanto si pensi. McRoy è infatti un giovane impulsivo ed irascibile, che va in escandescenza ad ogni minimo problema o avversità. Borg è invece chiamato l'uomo di ghiaccio, perché nulla sembra scalfirlo. In realtà però, per Borg questa è solo una facciata, in quanto ha imparato da tempo a reprimere i suoi sentimenti in pubblico. Se vi piace il tennis, non potrete che apprezzare Borg McRoy, un film commemorativo su due grandi campioni di questo sport.